Siamo tornati un'altra volta a Prizzo Persia, dove sono arrivato la puntata scorsa, sto facendo video di seguito perché non sono arrivato al salvataggio, quindi continuerò ancora un po', e eravamo rimasti che il principe sta discutendo con la voce nella sua testa, quindi una cosa abbastanza preoccupante, decisamente preoccupante, e il salvataggio stava qua, vai al diavolo salvataggio, tanto salvo che è meglio perché sennò, e non chiedermelo ogni volta, oh una carica di sabbia manca a pagarla, andiamo, oh quanti sono, non avete pagato l'imu, adesso so cazzi i vostri, devo fare qualcosa, vai allora salta e ammazzati, questo gli aiuterà moltissimo, però che mi toccano sempre le guardie, sono meglio questo topurio bruciato, mi spreco di tempo, un gioco di tempo, un gioco di tempo, un gioco di tempo, un gioco no, 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 stavolta voglio riuscire a ucciderli tutti senza farmi beccà, ah, questa è tremenda, non voglio sprecare le sabbie, ucciderli, ucciderli, sì, godo, tantissimo, e questo? Ah, il piccione, giusto, stupidi topi con le ali, e no, e no, devi venire qua, sì, sì, se stanno a parlare della partita, e se la partita di ieri la persi contro l'arabi saudita, è una partita, un po' così, merda, ho sbagliato, meglio, spiegate prima che se gira pure a stupirla, qua è l'arena? Dei gladiatori? No, l'arena, come si chiama? no, qua la faccenda è un po' difficile, qua devo fare un'uccisione a due e poi devo via la guardia, perché sennò si crea in continuazione casino, quindi, vai, vai, come sbagliamo? grande! perché sbaglio sempre qui? no, col cazzo che ti faccio attivare quel coso? dove crepa? eh, vabbè, ciao questo problema lo devo ancora risolvere oh, non lo mola oh, grazie ti ricordo una cosa, sembra che non lo stiamo a voi hai ottenuto? 100 crediti! impossibile 100 crediti di sabbi dove devo andare? allora, di qua no di qua e questi? c'è una maniera per pigare lì di sorpresa, quelli? girate ora amico tuo, girate no, ci devo andare direttamente addosso ma fa un culo non c'ho voglia woohoo! guarda qua è stato facile? piano no, che so sti così? ah, giusto, i cosi che esplodono no queste creature traggono nutrimento dalle sabbie uccidile ti la cerca di concentrarti il tuo stile di combattimento ne gioverà ma che vuoi? come sai che c'è un altro potenziamento di vita non è che devo buttare me in mezzo alle no, le fiamme no decisamente no per di qua no no, possibile ogni volta che gioco cioè me ne ricordo soltanto due di cosi di potenziamenti il resto perché c'è la cosa possibile di salire qui? no sbagliato anche qua posso salire no no, c'è sicuramente la cosa possibile di salire là sopra però vabbè avanti avanti, avanti, avanti avanti, avanti, avanti oh sì, grandioso finalmente dopo un paio di video mi sono sciolto un po' sono sempre stato utito a vedere i video e questi? ma che minchia vuoi? pure il rallenti muoio la sabbia ahio sì, succhiamo le sabbia così ti impari però non mi danno niente questi mi puoio le sabbie da qua ok, facciamo un po' di spiderman forza, i piedi principe corri a forza e reclama il tuo pro oh oh no, ho fatto una cazzata mi sono preso il panico perché stava croce che posso hai un'idea migliore ti puoi aprire le ali e volare non si sa mai hai le ali? sarebbe... ma che sbaglio sempre pulsante? oddio, se il principe oddio, se avrebbero le ali oscure sarebbe un spettacolo dove devo andare? di qua nooo dai, comunque devo dire allungare non è che spiderman può volare solo dritto ecco avanti, avanti, avanti avanti, avanti, avanti sneaky questa c'è stata tutta oh un salvataggio direi che possiamo la possiamo concludere qui questa puntata quanto ero semplicemente volevo semplicemente raggiungere il salvataggio che tecnicamente avrei altri dieci minuti no i difensori di babilonia sono vivi la città non è ancora caduta sei o cinque minuti vabbè questa era una puntata piuttosto corta giusto per arrivare a questa un altro salvataggio andare un po' avanti vi ricordo come al solito di cliccare mi piace se vi guardo il video e di continuare a seguirci e questa volta sì questa volta la puntata finisce qui quindi ciao